Ciao ragazze, in questo video vi mostrerò come realizzare questo trucco, è un trucco sui toni del verde, verde smeraldo, utilizzando lo stesso ombretto, anzi lo stesso pigmento, parlo di Insist della Bella Pierre, che è questo ombretto verde qui, molto intenso, che però in base alle basi sul quale lo applichiamo assume tonalità di verde diverso, queste sono appunto le tre tonalità di verde che si creeranno sul vostro occhio, allora la prima, ovviamente dov'è? Non mi ricordo, ecco, queste tre volevo dire, dove siamo? Una, due e tre, questa utilizzando la pastello come base, la pastello di neve make up, questa qui, poi questa tonalità di verde è appena appena più scuro della prima, con il long lasting 10 di Kiko e con una base nera, andremo a praticamente far diventare il pigmento di questo verde scuro. Sull'occhio è praticamente così il risultato, al centro c'è la parte brillante del pigmento bagnato, all'esterno, la parte più scura e all'interno dell'angolo della palpebra, il pigmento asciutto sulla pastello. Una matita dorata e un eyeliner dorato qui è bassa, semplice, molto sicuramente intenso per una serata colorata, però per utilizzare un unico pigmento e avere un trucco che sia resistente c'è sicuramente bisogno di questi ombretti in stick che sono fantastici. quindi spero di avervi dato un'idea con questo tutorial e vi lascio alla realizzazione dello stesso. Ciao! Ahimè, ho schiacciato due volte REC e non ho registrato un fico secco, quindi ricominciamo da capo, anche se io sono già partita praticamente col trucco. Ma è semplicissimo, le tre nostre basi saranno una matita color petrolio, ve la faccio vedere non sfumata, questa qui, questo verde qui, e io utilizzo la pastello di Neve Makeup, poi la pastello di Neve Makeup Bosco, un long lasting stick di Kiko, il numero 10, che è questo al centro, questo qui, questo verde qui, verde smeraldo, e poi io utilizzo il long lasting nero, ma va benissimo una matita nera, un eyeliner nero, come volete voi. Ora, sono andata ad applicare le tre diverse basi in tre punti dell'occhio diverso. La pastello nell'angolo interno dell'occhio e l'ho sfumata con un pennello, lo stick di Kiko, numero 10, che se mai richiudo evito di sporcarmi, più di quanto già non lo sia, applicato al centro e sfumato anch'esso con il pennello, e poi lo stick nero, applicato nell'angolo esterno dell'occhio e sfumato anch'esso con un pennello. Diciamo che noi lavoreremo su queste tre basi in modo da far assumere al nostro pigmento verde tre tonalità di verdi differenti, come appunto si vede qui, ma sicuramente si percepisce un verde più scuro qui, un verde più brillante qui e un verde meno intenso nell'angolo interno dell'occhio. Quindi, ero rimasta al punto di applicare il long lasting anche qui, appena appena sotto le ciglia inferiori, soprattutto nella parte più esterna. Non portiamo il nero fino all'angolo interno, ma vedeteci, fermiamo bene o male al centro. Se magari prendo il colore manco niente sarebbe. Ok, perfetto. Fatto ciò, andiamo semplicemente ad applicare il pigmento su tutte e tre le basi. Ovviamente io lo faccio con tre pennelli differenti. Un pennello piccino, prelevo un po' di pigmento, sbatto il pennello e lo applico nell'angolo interno, quindi nella prima parte, nella palpebra mobile. Poi un secondo pennello bagnato, ci bagno un po' d'acqua, ci spruzzo un po' d'acqua. Oggi non connetto. E lo vado ad applicare picchiettandolo al centro. In modo che questa sarà la parte più brillante. E poi con un altro pennello, che non so dove sia, eccolo, prelevo un altro po' di pigmento e lo applico nell'angolo esterno dell'occhio, sulla parte dove abbiamo applicato lo stick nero. E con quel che resta sul pennello, lo vado ad applicare anche qua sotto. E con un pennello pulito, da sfumatura, io utilizzo il, come si chiama, base shadow brush della Royal Techniques, ma lo utilizzo più per sfumare che per applicare l'ombretto. e porto appena appena il colore fuori. Se vedete che di intensità nell'angolo esterno dell'occhio, su un occhio è inferiore rispetto all'altro, prendete lo stick, perché io qui, su quest'occhio, ho fatto due passate di stick nero. Prendete il pennello, così, molto leggero, e picchiettate appena appena. appena appena appena, e con il pennello, col quale abbiamo applicato l'ultimo, l'ultima dose di colore, di pigmento. Andiamo a sfumare. e voilà. Ok, vado a sfumare. perfetto. Ok, adesso vado a prendere una matita color oro, non troppo intensa, la vado ad applicare nella prima parte della palpebra inferiore, se così si può chiamare. Ok, ombretto color panna, da applicare nell'angolo interno dell'occhio, qua. Aia! Sotto l'arcata sopraccigliare. Madonna, ma ho battuto il gomito! Che dolore atroce! qui, per pulire tutta la zona. E poi, con un eyeliner oro, io utilizzo il Metal Glam di Essence, vado ad applicarne un pizzico proprio sulla matita, per illuminare ulteriormente. Adesso vado ad applicare il mascara nero, ovviamente waterproof. e applico il mascara anche sulle ciglia inferiori, appena appena. questo è il look finale. Io spero che si noti la differenza dei tre colori, anche se dubito. Sicuramente si vede che nell'angolo interno dell'occhio il colore è meno intenso, al centro è intenso, è luminoso. Nell'angolo esterno dell'occhio, invece, è più scuro, nettamente più scuro. Quindi, beh, si vede. Nulla, adesso mi ingratto qui un gloss trasparente. No, mi sono sporcata qui. Quindi. E voilà. Il look è finito. Un po' più da vicino, forse. Il look è finito. Ovviamente qui potete inserire la matita nera nella rima interna, oppure con sempre la matita nera sporcare l'attaccatura delle ciglia e fare una riga di eyeliner un po' sfumata, magari verso l'esterno. E potete fare un po' quello che volete, volendo. Potreste fare una riga di eyeliner dorata su tutto l'occhio, sulla palpebra superiore. e illuminerebbe ancora di più il trucco. Comunque, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Ok. Sono in condizioni pessime, come sempre, perché io non è che mi resta per fare i tutorial. Quindi... Sì. Nel frattempo cade la videocamera. Quindi, spero che il tutorial vi sia piaciuto, che vi sia utile per qualche vostro trucco. e nulla. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio e ciao! 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 Ciao!